Siete stanchi di spendere più in spese di spedizione che effettivamente in prodotto? Da oggi con la nuova funzionalità su Card Trader questo problema non esisterà più Trovate le vostre carte di Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon e altri giochi di carte collezionabili a spedizione 0 Esatto, avete capito bene, se noi andiamo su singole potete vedere utilizzando il pulsante aggiunge al carrello giallo 0 Avrete 0 spese di spedizione E utilizzando il link in descrizione durante la registrazione avete un bonus di 2€ gratuito da utilizzare sul sito E voi direte ma con 2€ non ci compro niente? E vi dirò no ho sbagliato perché come potete vedere dal nostro ordine effettuato poco fa Siamo riusciti ad avere carte che ci servivano per completare alcuni mazzi ma di valore pari a praticamente 0 Sia per gli ottimi prezzi sia perché sono carte che non hanno molto valore E spendavamo troppo in spedizione utilizzando gli altri siti Mentre con Card Trader no Quindi mi raccomando link in descrizione e buona visione Ciao a tutti ragazzi, sono Trinky della Degrado Family Oggi abbiamo una scatola di Arsenale Nascosto Capitolo 1 Che non avevo mai preso, è abbastanza vecchiotta Dentro ci sono 2 buste di Arsenale Nascosto Capitolo 1 18 carte per busta E una di 7 carte Rare Segreta Variant E un dado di uno di questi 5 qua Quindi passiamo subito all'opening Per aprire basta tagliare i due sigilli qua direi Spero Ok, non volevo romperlo Ok Qui abbiamo Non ne ho idea Probabilmente delle combo inutili, non so Sì Combo Barriere di ghiaccio, natura e foresta Ma robe che non ci interessano direi Quello che ci interessa è questo E abbiamo Abbiamo Due buste Il dado Che non so Che cosa sia Sinceramente E' quello arancione Non so cosa Ah Ah ok E' il Baby Flanwell Bellissimo cazzo Bellissimo Molto 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 bello Adesso non Non mette a fuoco Ok E qua c'è il 6 Molto molto Poi abbiamo La Secret Che è Drago Armato Palo Non Non l'ho mai sentita Ce n'è solo una Sì Ok Interessante Dopo La apriamo Comunque La lasciamo un attimo lì E apriamo Subito le due buste Sono 18 carte per busta Se non mi ricordo male Non so se c'è Un trick Ci do un'occhiata Velocemente Ok Le metto Dietro queste Ok Allora Abbiamo Dai Sogio Della barriera di ghiaccio Combattente delle lame Annullatore Alleato della giustizia Lady Arpia Buono Carovana Barriera di ghiaccio Quindi ci sono molti Barriera di ghiaccio Ci saranno molti Molti Flanwell Immagino Il Neos Eroe elementale Common Favoloso Qdabbi Comunque le carte Sono imbarcate Le ho tirate fuori Dal pacchetto E sono già così Sono già Imbarcate Vabbè Primo Pilum Dragonità Va bene Le tengono molto bene Il negozio Naturia cimice Il favoloso Dianaira Il giavellotto Dragonità Che pensano sui giochi Questo si giocava Ai tempi Prima Foil Direi Cioè Il brillantini Penso sia foil Non so come Non so come si chiama esattamente Questa rarità Comunque Ok Bella Cazzo La grimro Questa si giocava assolutamente Foil E ultra Ma che bella Mamma mia Assurda Questa Qua di fianco Poi abbiamo Bellissima Natura ciliegie Ultra foil La chiamerò La chiamerò così Perché non so come si chiamano E poi Bello Questa Assurda Il cyber drago Ultra foil Ma che bella Bellissima Quindi Sostanzialmente Di foil Abbiamo In teoria 14 common 4 8 12 14 common Le metto Un po' Qua sparse E poi abbiamo 3 ultra foil E una foil Comune Più una secret Che è questa Ok Apriamo la seconda busta Metto sempre Le carte Un attimo Dietro Ok Allora Esecutore Della valle Delle nebbie Truppe D'assalto Da barriera Di ghiaccio Flanvel Un'altra Barriera Di ghiaccio Abbiamo capito Che ci sono queste Ci sono anche Le valle Delle nebbie Questa Si giocava Ai tempi Medaglione Alleato Alla giustizia Questa Non è finita In fondo Vabbè Questa è la prima Foil common Barriera Di ghiaccio La mettiamo qua Vicino con l'altra Poi abbiamo Il maresciallo Non ci prendi Pistola Una fem Ok Il favoloso Coccator Questa qua Fortissima Si giocava A tre Nel dragonità Ai tempi Il favoloso Larry O l'urri Non so Diff Questa mi sembra Che non si giocassero Questa si giocava Perché era Uno dei pochi Tuner E gira Sole Oh bella Questa Assurda Merda Questa E se La gioco in Goat Mamma mia Che bella Salitore Notturno Ultra Foil Questa forse Cioè Penso non costino un cazzo Ste carte Però magari questa Qualcosina vale Vediamo dopo No vabbè Assurdo E la falange Dragonità Bellissima Che bella Cazzo Questa si giocava 3x Era la carta Che ti faceva Fare le synchro Ai tempi Io giocavo Dragonità Veramente Dei feels Assurdi Queste carte E poi No Vabbè Vabbè Questa è più Old school Il mago nero Ultra Foil Mamma mia Dopo do un'occhiata Ai prezzi Delle carte Off screen Perché sono curioso Penso che non costino nulla Però sono veramente belle Cazzo Mamma mia Quindi abbiamo Sostanzialmente 28 common Che sono queste qua Scorro velocemente Un po' dragonità Un po' barriera di ghiaccio Un po' flanvel Roba un po' a casa In realtà E alcuni nature Poi abbiamo Due Foil common Quindi Questa E questa E poi abbiamo Queste qua Che sono probabilmente Anzi sicuramente Le migliori Sono ultra Foil Almeno Io le chiamo così Perché non so Come si chiama La rarità Se la conoscete Scrivetela nei commenti Ma che bella Mi preferita Questa qua Assurda E niente Adesso Apriamo giusto questo Lo togliamo dalla busta Ma si vede già che cos'è Quindi Serva poco Però tirando lo stesso Fuori dalla busta Cercando di non Spaccare la carta Perché questa busta È bruttissima Ok Il drago armato palo Che sinceramente Non sapevo esistesse Però Sembra drago armando Quindi Ci sta È il dado Di Baby Flamble Credo Sì Penso di sì Dunque veramente bello Arancione Non è il mio colore preferito Però Veramente figo Baby Flamble Io l'avrei fatto Più rosso Che arancione Però Bello Niente ragazzi Questo era il video Ci vediamo al prossimo video Che probabilmente sarà O di Yugi O di One Piece E niente Ciao Ciao